Buongiorno. Mi scuso con Nadia, ma adesso la richiamiamo. Anna, prego. Vorrei fare una domanda alla dottoressa. Siamo qui per questo. Io 15 anni sono stato tre giorni in gomma per partorire. È stata tre giorni? Tre giorni in gomma. In gomma. Sto a rinchi a prendere la depresione. Ah, l'aver avuto un parto difficile, addirittura con un caso di coma, come quello che ci racconta... Sì, sono stato tre giorni in gomma perché ho preso la gestosa. Sì, 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 non ho chiaro, Anna. E quindi hanno 19 anni, già hanno i tre figli. Può portare a un aumento della condizione. Allora, di nuovo la signora ha toccato un elemento molto importante, cioè quanto il parto problematico, senza arrivare al coma, che veramente per fortuna è una situazione rara, ma la signora ci ha detto una cosa importante, ha avuto una gestosi, che è una malattia per la gravidanza, caratterizzata da picchi di pressione molto elevati, da perdita di proteine con le urine e ritenzione edirca. Di nuovo ho un suggerimento molto pratico, questa volta per i mariti. Attenzione, se la donna russa in gravidanza, se russa, questo aumenta dell'80% il rischio di ipertensione. Ma se la donna ha apnei notturne, quando manca l'aria e se ne accorge il marito, il rischio di eclamsia aumenta di otto volte. Quindi la qualità del sonno è fondamentale ed è un'informazione che il marito o il compagno può dare al medico. Quindi, attenzione, sempre qualità del sonno. Parti traumatici, parti prematuri, bambini problematici, che non è sempre il bambino dei sogni, un bambino che sta per esempio in incubatrice a lungo, per il quale si ha paura che non riesca a farcela, o ha bisogno di un intervento, o ha bisogno di cure particolari, sono tutti elementi che aumentano l'ansia, che non fanno dormire di notte, che creano anche sofferenza fisica tra giorni di coma e un trauma, e quindi possono darci depressione a lui. Micharetti, ma c'è differenza tra il primo e il secondo figlio, o il terzo e il quarto, cioè con l'incidenza di problematiche post-parto? Con l'incidenza di problematiche post-parto a volte sì, molto spesso no. Da un punto di vista emotivo invece sì, perché c'è la mamma che è già preoccupata per il bambino che deve nascere e anche preoccupata per il bambino che aspetta a casa e che in qualche modo si può prevedere che possa avere delle crisi di gelosia. Questo bimbo va trattato con i guanti bianchi perché non sono capricci, ma è un momento estremamente delicato per lui, perché che cosa capisce immediatamente? Che il bambino è della mamma e del papà e non è suo, che la mamma non è più tutta per lui e che questo frugoletto non gioca con lui. Quindi basta e avanza per creargli una situazione di grandissima difficoltà. Quindi grande dolcezza, grande comprensione, grande ascolto. Non sono capricci, ripeto, non va trattato con aggressività, ma è dire al bambino sei cattivo perché fai delle cose brutte o sei grande perché allora si impedisce, tu sei grande dovresti capire, il bambino magari ha qualche mese in più o anche se un anno o due in più non può essere considerato grande, ma nell'imprinting poi rimane che crescere non è così bello, quindi non è più una conquista ma è un qualcosa che mi toglie dei privilegi, quindi molto importante. E chiaramente la mamma subisce delle conseguenze perché cerca di dividersi. Io quello che dico sempre è che l'amore si moltiplica, non si divide, quindi queste mamme non devono avere paura di non avere abbastanza amore per tutti e due o anche per il marito. Bisogna dimostrarlo ma si può dimostrare con grande tranquillità e grande scioltezza. Ci avviamo alla conclusione Micheletti, a noi è piaciuto, diciamo, quando abbiamo fatto questa puntata l'abbiamo pensata, mettere al centro la donna, la salute della donna, perché troppo spesso appunto come dicevamo si pensa sempre al bambino e si trascura invece quelli che possono essere tanti problemi. Tuttavia in chiusura riusciamo a riprendere la signora Nadi che è da Verona, sperando con una qualità della linea migliore. Nadi mi sente? Sì, sento benissimo, buongiorno. Ora un po' meglio la sentiamo, ci dica, ci dica. Sono una donna da tre anni, come ho detto prima, con due bambini, uno di sei anni e un altro di sette mesi. Tutti e due con parto di talo cesare. Con il primo bambino non ho avuto tanti problemi, ma con il secondo, invece, subito dopo il parto ho avuto sempre questo mal di testa e ero anche tanto goncie, no? Mi ho messo tanto tempo a perdere i rischi. Mi dicevano sempre che andava bene perché era stato e perché... Questo mal di testa non mi avevo mai abbandonato, nel senso, ho fatto un calvario fino a che sono stato ricoverato in erogia. Volevo chiedere fino a che puoi scontrare questo con il post-parto. Chiarissimo, chiarissimo. Tra l'altro mi hanno riscontrato anche il fototiroidismo in gravidanza. Perfetto, grazie signora Nadi. Allora, col primo figlio tutto a posto, col secondo, invece, forti mal di testa che non passavano mai tanto da ricoverare la neurologia. Ha stato diagnosticato anche un ipertiroidismo durante la gravidanza. Chiedeva la signora se questi mal di testa possono essere in qualche modo associati. È una domanda un po' più, forse, tecnica. Non so se riesco a cavarne. Sì, la signora è correlata all'ipertiroidismo? O al post-partum, o alla depressione, a questo tipo di... Al post-partum, sì. E di nuovo la cefalea può essere scatenata o peggiorata, innanzitutto da variazioni incredibilmente della situazione intestinale. Per esempio, alle signore bisognerebbe chiedere se dopo il parto aveva notato un peggioramento del modo di andare di corpo. Se ha di più diarrea o stitichezza. Perché la carenza di ormoni cambia questo. E soprattutto il fatto di avere diarrea significa avere, o comunque delle feci più morbide, una infiammazione di parete. Ma questo aumenta le intolleranze. E per esempio, in questi casi, un consiglio semplice è quello di, per esempio, eliminare il glutine dalla dieta per due mesi. E vedere se la cefalea si riduce. Perché molto spesso questa gluten sensitivi, di questa sensibilità al glutine, aumenta lo stato infiammatorio e scatena la cefalea. Altro elemento, se dorme abbastanza. La carenza di sonno in soggetti predisposti può peggiorare la cefalea. Quindi abbiamo degli elementi fisici. E poi, ha parlato di calvario addirittura. C'è stata quindi una grossa sofferenza. Se l'hanno ricoverata in neurologia, vuol dire che la cefalea era veramente importante. Ci potrebbero poi essere i fattori invece neurologici da considerare. E in un ultimo, anche attenzione alla pressione sanguigna. Perché anche gli sbalzi pressori possono scatenare la cefalea in soggetti predisposti. Certo che il periodo dopo la gravidanza, e dobbiamo salutarci, è un periodo di tanti sconvolgimenti, eccetera. Quindi non abbiate timore, è questo che abbiamo imparato soprattutto, non abbiate timore di comunicarli, che siano problemi psicologici o fisici, dolori, anche problemi di stitichezza, incontinenza o viceversa. Assolutamente. Ecco, non abbiate timore di comunicarlo al medico, perché non c'è davvero nulla di cui aver paura. Si può risolvere praticamente tutto, ci sono tutti i problemi che possono essere affrontati con successo. Alessandra Graziottin, direttore del centro di ginecologia alla Sara Felle Resnati, grazie per essere stata qui con noi, dalla stessa struttura Chiara Micheletti, psicologa, psicoterapeuta. Grazie anche a lei, dottoressa. Vi ricordo solo ancora la fondazione Graziottin, qui con la presidente, visitate il sito se volete informazioni sulla salute della donna.